buongiorno a tutti oggi un ospite davvero speciale e lo riconoscete forse no perché vediamo i suoi video le sue fotografie ma lui non compare spesso è carlo budel ormai una star del mondo di internet una star di dolomitici grazie carlo grazie a te piacere essere qua allora carlo lo abbiamo invitato perché è un personaggio delle nostre montagne è un appassionato incredibile fin da bambino di montagna vero carlo si andavo con mio nonno da piccolino in montagna mi ha sempre piaciuto stare nella natura e sia e tu sei di santa giustina vero di quelle zone là muyac il paese sotto san gregorio nelle alpi hai una storia personale di parecchi anni di lavoro in fabbrica giusto ho passato vent'anni della mia vita in fabbrica ci sprecati sprecati insomma va beh insomma ma ascolta e però mentre mentre comunque avevi questo lavoro la passione per la montagna la coltivavi sempre ci andavi io sono sempre andato anche in bici da corsa d'estate quando quando il tempo fa bello come adesso sì la montagna è sempre andato sempre andato e poi poi poco tempo fa c'è stato che è stata questa tua decisione di di cambiare vita in qualche modo di mollare la fabbrica di lasciare la nostra valbelluna per andare a farti le stagioni invernali in quota no a lavorare nei rifugi nei locali giusto ero stufo di far sempre la stessa vita avevo passato gli ultimi 17 anni e mezzo in cartiera santa giustina e c'è lavoro mi piaceva mi piacevano i colleghi mi piaceva tutto però era sempre la stessa routine tutti i giorni quella strada dal lunedì al venerdì c'è mi stava stretta dicevo c'è non posso fare tutta la vita la stessa cosa e nel tempo libero sabato e domenica andavo in montagna cioè ho detto ma perché devo fare solo sabato e domenica ciò che mi piace se posso farlo mischiare il lavoro alla mia passione è quello che ho fatto alla fine mi ritrovo insieme alla marmolada l'estate e a ristoro bel vedere sul schiccivetta c'è bellissimo anche quel posto là non so se sei mai stato sì sì sono stato sì è bellissimo e penso che tu abbia realizzato quello che tante persone vorrebbero fare ma non hanno il coraggio di fare no perché alla fine sei vincolato da tante cose non hai il coraggio di staccare di cambiare vita e di cominciare un'esperienza nuova seguendo un po di più il cuore tu questo coraggio l'hai avuto quanto tre anni fa mi dicevi tre anni fa non tanti quanti anni hai più di tre anni fa era il 15 febbraio del 2016 15 febbraio 2016 all'età di quanti anni avevi quando hai fatto sta scelta 42 42 quindi a 40 anni si può anche decidere di cambiare a me era già un po di anni che continuavo a ripetermelo fallo 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 e dopo ma no ma il posto fisico tre cose che ti mettono in testa cioè come ripetevo in testa dopo in un attimo lo fai non lo fai non sono scelte te lo ripeti ma è un attimo dopo farlo dire basta allora è un po complicato raccontare questo personaggio no questo questo carlo perché voglio dire è già interessante di per sé questa cosa qui no questa decisione di cambiare un po vita seguendo il cuore seguendo la passione però carlo non solo ha scoperto la sua capacità di di gestire di gestore di rifugio in sostanza perché l'anno scorso l'estate scorsa per la prima volta con anche un po di apprensione hai raccolto questa sfida e sei andato ad aprire a tenere aperto il rifugio in cima alla marmolada che quota 3.000 3.343 rifugio più alto delle dolomiti 3.000 in cima alla regina in cima alla regina 3.343 metri una sfida da tutti i punti di vista la neve la solitudine il temporale le gambe perché la non ci arrivano funivia la ci arriva piedi ramponi piccozza e ogni tanto vado su e giù a prendermi le cose da mangiare il pane le verdure è una cosa una cosa cosa grossa effettivamente questa questa cosa qui però però a questa a questa vicenda che è anche questa tutto da raccontare se ne aggiunge un'altra carlo vabbè io sono un comunicatore perché sono un giornalista carlo non fa giornalista non è un comunicatore di professione ma un'attitudine incredibile e le sue i suoi post prima ancora che tu salissi marmolada da malga ciappella quando lavoravi lì i suoi post sono seguitissimi su facebook quando mette le sue fotografie i suoi commenti i suoi video evidentemente riesci carlo a toccare il cuore della gente perché la gente ti ti viene dietro sembra quasi che ci sia no sembra ci sono tante persone che quasi quando sei in marmolada aspettano la tua buonanotte il tuo buongiorno vero no sì io penso che sia perché io racconto la mia vita io non pubblico semplicemente una foto un video per far like a me alla fine non mi interessa niente io continuo a raccontare la mia storia che da malga ciappella sono arrivato in marmolada faccio vedere quello che vedo io praticamente sì io penso che sia per quello che la gente mi segua così volentieri perché io faccio vedere tutto in tempo reale tra l'altro non faccio vedere foto video di chissà quando penso che sia per quello ma è troppo piacere che la gente mi segua così ma in marmolada questa estate era incredibile beh i paesaggi sono stupendi ma non è solo quello sai tu tu riesci a metterci qualcosa di più perché si capisce appunto che non è una fotografia presa sei sei tu lì in quel momento sì ma io voglio far vedere le mie emozioni ma ci credo st'estate mi sono trovato davanti albe una mi sono commosso c'è a un certo punto il cielo è diventato tutto rosso era il 7 luglio o il 7 e il 14 è incredibile per cinque minuti era diventato rosso completo l'alba più bella che ho visto in vita mia e infatti quel video l'ho pubblicato in un attimo aveva fatto 4.000 like o 3.000 condivisioni cioè era incredibile perché la gente vedeva quello che vedevo io io penso che sia per quello che la gente ma sicuramente ma sicuramente ma io ho presente mi hai fatto impazzire quando quando metti quando fotografi lo specchio con cui ti davanti al quale ti radi la mattina in cima alla marmolata è logico che pochissime persone possono permettersi un'esperienza però io credo che tu riesca a far sognare la gente in questo modo perché sì ma anche là è praticamente la mia vita reale in cima perché là per farmi la barba prendo la neve la sciolgo la scaldo metto l'acqua calda dentro su una bacinella è come una volta con lo specchietto come facevano i miei nonni penso mi faccio la barba la gente apprezza queste cose quelle semplici quelle semplici ma poi appunto parlano di un mondo di modi di vivere che la stragrande maggioranza della gente non segue più per forza ma per comodità per mille ragioni insomma però ti riportano un po all'essenziale forse no perché insomma alla fine l'esperienza che fai tu un'esperienza proprio di sobrietà massima ma ascolta ma allora l'anno scorso quanto tempo sei stato su in marmolata da quando 100 giorni 100 giorni ho fatto dal 20 di luglio ma fino a settembre fino a settembre io mi ricordo che 100 giorni giusti all'inizio quando sei andato su postavi le foto di come avevi trovato il rifugio in cima alla marmolata c'era ancora un sacco di neve da spalare perché aveva fatto un impianto c'erano due metri e mezzo davanti alla porta i primi tre giorni prima di aprire sono andato su e giù da giù al lago perché l'impianto non era aperto noi mi facevamo 1300 metri di dislivello arrivavo su pala e picco prima un giorno ci ho messo a liberarmi la porta perché una volta liberata la porta e dopo bisognava aprire sistemare per fare i carichi per tutta la stagione con l'elicottero l'elicottero ci metteva la roba davanti alla porta se non si poteva aprire la porta la mettevano dove la su l'acqua e tutto quanto se la lasci di fuori e si congela anche in piena estate e allora su e dopo tornavo giù per tre giorni su e giù su e giù fino a che ho sistemato ci siamo saliti in elicottero ci siamo fatti tutti i carichi e c'è mi è stato emozionante ero passato da lavorare in fabbrica a fare tutti i giorni la stessa strada a iniziare una stagione in cima alle dolomiti e salire con l'elicottero che non ero mai salito cioè avevo la pelle d'oca ero emozionatissimo è stato bellissimo un'altra vita proprio un cambio di vita un cambio di vita radicale proprio completo è quello che volevo è quello che volevi ma hai fatto un saldo pazzesco perché i post che all'inizio mettevi dal dal bar lì a Malga Ciappella che anche già quelli trasmettevano tutto il tuo stupore della nevicata magari fuori stagione e così dopo da lì io mi aspettavo visto che ci eravamo parlati ti seguivo credevo che tu andassi a gestire o vedrai che questo andrà a gestirsi un qualche rifugio a quote normali invece caspita in cima alla marmolata hai fatto un salto pazzesco perché intanto che ero io due anni fa ero sopra a Malga Ciappella la rifugio del Gigio e la andavo a camminare io conoscevo bene Aurelio del rifugio Castiglioni che da 15 anni aveva comprato Cappanna Punta Penia sono andato a trovarlo e mi fa ho comprato un rifugio Cappanna Punta Penia su in cima alla marmolata e mi fa sto cercando uno che lo gestisca cioè non mi è mancato altro appena mi ha detto così ho detto eccolo qua eccolo qua e lui fa ma sì ma Carlo va che bisogna essere è tanti anni che non ci vedevamo mi fa va che bisogna essere sapere andare in montagna per gestire allora gli ho fatto vedere tutte le foto Antelao Pelmo che le avevo girate tutte e fa ah non sapevo che avevi tutta questa passione ci siamo siamo subito d'accordo e da là è nato tutto e da là è nata ma ascolta raccontaci un po' di questa esperienza io tante volte ho pensato anche alla solitudine che devi aver provato la sua il bello e il brutto della solitudine il brutto tempo quando devi passare una giornata intera di brutto tempo e magari non ti arriva nessuno è successo solo due giorni in realtà con una bufera di neve che sono restato da due giorni da solo quell'altra bufera avevo sempre avuto gente quella è la prima di due giorni quella con mio fratello che viene anche spazzato via dal vento con la neve là sono stati due giorni mio fratello è un mio amico e quindi ci sono stati due giorni sopra la fornella a metà luglio proprio vicini alla fornella a giocare a carte a raccontarcela no ma c'è sono belli anche quei momenti i due giorni che mi sono fatto da solo una ragazza mi aveva portato su un libro io non avevo mai letto un libro non mi piace leggere mi piace andare a camminare mi sono messo a leggerlo questo libro e le otto montagne e mi ha preso benissimo e cioè insomma me lo sono letto metà in due giorni e dopo me lo sono letto tutto e queste cose ti rilassano cioè avevo ritrovato tutta la pace che ho perso in vent'anni di di facendo quello che forse a me non andava di fare bellissimo ascolta e quanta gente hai avuto su in questi cento giorni li hai contati è tanti ma parliamo di migliaia migliaia non credevo mi dicessi così guarda e quando quando fa un sabato e domenica e di bel tempo ma dopo non è che entrano tutti in rifugio lo so mi ricordo anche le polemiche giustamente hai fatto ma d'altronde raccontiamola perché merita perché magari non ha seguito gli post che faceva carlo quando tu sei su che fai mille sacrifici magari per preparare anche la torta per provare insomma voglio dire uno arriva su dopo tutta la sfacchinata lassù trova comunque un punto di appoggio no questi vengono dentro ti chiedono il bagno e poi se ne vanno il bagno è fuori vabbè ma voglio dire ci sono persone che ci sono quattro tavolini di fuori quando vanno via la neve sono comodi c'è gente che si mette là e si beve le sue cose si mangia le sue cose e non consumano niente cioè io non pretendo che la gente venga e consuma non mi interessa niente però neanche chi mi occhi opinioni ultimi unici quattro tavolini che ho insomma è un po' un po' è come se io andassi a casa l'ora l'ora a manzare non è purtroppo c'è anche questo insomma la sua è quasi tutta brava gente che arriva ma immagino però insomma i casi li hai visti anche tu insomma comunque migliaia di persone fino a settimana tanta gente sabato e domenica tipo agosto possono vedi anche 300 persone lassù è impressionante è la cima più frequentata in assoluto delle dolomiti essendo la più alta arrivando da tutto il mondo anche con le guide alpine ma proprio chi va sulle dolomiti vuole arrivare sul punto più alto e lassù è il punto più alto però bisogna avere anche le capacità per farlo io non ci arriverò mai io vado in montagna cammino ma lì insomma serve qualche diciamolo anche no perché tante volte tu hai dovuto scrivere attenzione venite su provateci solo se avete capacità tecniche io ho visto tante persone arrivare su che sono arrivata in cima e non sapevano più come tornare giù tanti mi fanno domande tipo se servono le ciaspole arrivare su cioè bisogna per il ghiacciaio ramponi quelli seri piccozza e a un certo punto quando viene fuori crepacci bisogna essere legati se volete salirla su non avete fatto ghiacciaio montagne serie bisogna prendere la guida alpina cioè vita ne avete una e la rischiata di grosso cioè non è una passeggiata insomma ebbè il messaggio è chiaro ma ci voleva insomma in cima alla marmolata c'è un rifugio ma non è un rifugio per tutti insomma bisogna ecco se no appunto come dici tu adesso si chiede aiuto a una guida alpina sono lì a posto voglio dire ti fa fare un'esperienza straordinaria no perché si va su in sicurezza ti spiega come si fa ma poi quando si arriva su cosa si trova da te tu gli prepari anche un boccone io faccio minestrone gula zuppe giaccale dopo pasta col pomodoro ragù bel ho il mio strudel marchio di fabbrica di punta penia l'avrò fatti 150 200 a un certo punto mettevo sulle foto dei miei strudel e dai tutti pensa che uno è arrivato su con termos e mi fa devo prendere due fette di strudel da portarli a Milano a mia mamma due giorni dopo su messenger mi arriva un video della mamma di sto qua a Milano che si mangiava il mio strude a Milano preso il suo a 3.343 metri ebbene ma vuoi mettere il sapore e sapere da dove è arrivata no è incredibile questa cosa mi era stata impressa poi ci sono stati anche abbiamo visto una volta che qualcuno ti ha detto chissà che buoni che sono i mirtilli che vengono lassù allora forse non hanno presente che a 3.000 è molto difficile che vengono è una pianta di fiorellini viola che è bellissima che cresce la pianta che cresce sopra l'italina che è tua amica è bellissima questa pianta è l'unica cosa che cresce lassù che spettacolo che nei gracchi anche gli animali hai anche concesso qualche ricetta no? beh quella è la strudel l'ho detta sì perché ormai ma ascolta Carlo adesso tu saresti pronto a fare questa seconda stagione in marmolada però il clima quest'anno è pazzo che notizia hai di lassù? com'è la faccenda? adesso aspettiamo che il tempo migliori perché tu dovresti cominciare quando? noi si spera di aprire intorno al 20 di giugno ma quanta 20 giugno quanta neve c'è su? eh ci sono 3-4 metri di neve quindi ne ha fatti 4 metri solo da io sono salito il primo aprile dopo aprile ha iniziato a nevicare da aprile adesso ne ha fatti 4 metri su in cima e che tengono le temperature era almeno 10 anche in questi giorni lassù adesso speriamo che dal 20 in poi hanno detto che migliori noi il primo di giugno andremo su faremo quello che ci sia da fare che ci sono anche lavori da fare perché la tempesta vai ha fatto danni anche là mi dicevi no? ci sono c'è qualche lavoro da fare adesso aspettiamo perché là deve migliorare il tempo deve aprirsi noi contiamo di aprire per il 20 di giugno se viene un po' di temperature un po' più calde o così anche la neve ti dà una mano a sciogliere almeno un po' ne avrai da spalare in ogni caso mi sa che ne hai da spalare noi contiamo di aprire per il 20 di giugno comunque fare la stagione come l'anno scorso benissimo l'estate ha messo a che farà caldo e bello speriamo va bene ma le previsioni così lunghe si sa che non è che valgono tanto insomma io penso che adesso quando finirà questo giro così verrà caldo e in qualche modo insomma dopo si torna a regimi normali certo che questi giorni ne abbiamo viste di strane insomma ascolta Carlo questa esperienza tua di vita perché alla fine ripeto questo fatto di lavorare in fabbrica per 20 anni poi a 40 anni cambio tutto e vado a gestirmi il rifugio sulla vetta più alta delle Dolomiti già di per sé è una roba pazzesca io non so se si sa in giro se no lo diciamo noi qui in anteprima tutto questo diventa un libro si stavo facendo da sei mesi un libro me l'hanno proposto una casa editrice di farlo io subito gli avevo detto che non ero in grado perché c'è io non so scrivere un libro ne ho letto uno di libro e deve essere secondo me piacevole da leggere come quello che ho letto io è piacevole e allora mi hanno affiancato una scrittrice insieme abbiamo fatto questo libro che si chiamerà la sentinella delle Dolomiti che racconta la mia vita dai tre anni quando ero stato per la prima volta sul pizzocco con mio nonno che mi aveva portato sulla schiena ha la vita in fabbrica tutto fino a quando sono arrivato lassù e le emozioni che si provano lassù perché la scorsa l'istate ho trovato persone veramente vere lassù io mi ricordo arrivato su un signore di 87 anni a festeggiare da Porto Gruaro a festeggiare il suo compleanno e io non ci credevo 87 anni con il figlio sembrava quasi più vecchio il figlio del signore stava benissimo e non ci credevo che aveva 87 anni mi siamo fatto dare la carta di identità con più 87 anni gli ho offerto io lo strudel e tutto quanto non ho fatto solo i complimenti potevi farli a uno così a 87 anni stare così bene proprio e mi ha detto che aveva sempre fatto il contadino che si è sempre mangiato le cose che produceva lui sarà per quello sarà per quello sarà per quello ma ascolta allora nel libro c'è un po' di tutto questo insomma anche degli incontri che hai fatto lassù allora anche di tanti bellissimi incontri che ho fatto lassù e poi dopo una parte della mia vita un po' si è regolata cioè non è sempre stata così perfetta e racconti anche quella parte lì sì beh neanche malissimo a questo punto ci metti la curiosità bisognerà comprare il libro bisognerà comprare il libro dopo ci sono tutte le foto più belle di lassù beh sei bravo però a far foto perché anche quelle che hai messo quest'inverno che hai pubblicato tante volte da Refugio Belvedere che è un Belvedere straordinario e che lì siamo in comune di Selva forse o è Alleghe eh penso sia Selva di Cadore forse Selva vero l'anno Belvedere eh sì è proprio è sopra la Val Fiorentina sì appunto anche se sei sul crinale che guardi giù verso l'aria se che non lo conoscevo neanche Refugio Belvedere non ce l'ho mai stato è bellissimo quel posto là cosa sarà lì? sarà a 1900 2100 ah già su così 2080 ah sì a me mi ha chiamato Michela che è la proprietaria del Belvedere mi ha detto no Carlo se vuoi venire qua a farti la stagione quest'inverno mi ha detto vengo a vedere com'è perché a me piace andare a lavorare in posti che mi piacciono comunque eh questa vita nuova deve essere fatta così si fa solo quello che piace no insomma mi piace quando sono arrivato ho detto ma che panorama stupendo è bellissimo c'è il Civetta il Telmo cioè sembra già lì cioè veramente poi ti alzi su dove c'è la croce di Veta di cima a Fertazza c'è davanti la Marmolada sotto il lago di Alge c'è Merita anche perché io lo consiglio perché è una passeggiata anche d'estate tranquilla si tranquilla di grande soddisfazione però quando arrivi lì che scollini e vedi giù tutto quello che c'è là sotto insomma poi Civetta resta una montagna incredibile questa parete secondo me quella è la sud della Marmolada sono le pareti più belle la sud della Marmolada ha il problema diciamo così che fai fatica a vederla tutta intera perché il Civetta la parete è visibile dal bel vedere per tutto insomma dal basso dall'alto dal mezzo invece quella della Marmolada è più difficile andare a scoprirla devi andare su a Malga Ombretta sotto al Fagliar però ce l'hai da sotto e magari ti risulta anche schiacciato un po' impressionante però anche a me piace da matti infatti da quel punto là si è bellissimo va bene Carlo allora noi ti ringraziamo per essere passato di qua in questi tuoi ultimi giorni di ferie possiamo dire insomma prima di cominciare una nuova stagione speriamo che il tempo ti permetta di andare su e mettere a posto le cose e beh venite a trovarmi st'estate io mi trovate su in cima alla Marmolada e là c'è un posto caldo da dormire perché abbiamo i letti poi una cosa bella anche questa e lo diciamo visto che tu fai l'invito ad andare su abbiamo appena detto però che bisogna stare attenti non è per tutti andare in cima alla Marmolada o se no invece che per il ghiacciaio basta salire per la ferrata ci fa lo stesso un pezzettino di ghiacciaio il piccolo ghiacciaio del Vernell dal piano dei Fiacconi ci scende si va via verso Forsella Marmolada e da là si sale la ferrata per la cresta ovest e quanto sarà di tempo quanto dislivello c'è dai qualche caratteristica 700-800 metri di dislivello dal piano dei Fiacconi però è più facile basta un imbrago un casco è molto esposta Carlo no è semplicissima come ferrata super attrezzata con i scalini e tutto quindi ci si attacca si va su tranquilli esatto e si arriva su e si arriva su ecco perché una cosa bella anche che fai tu è la tua capacità di dare la tua disponibilità a dar consigli anche no per cui credo che non sbaglio se dico che o su dolomitici dove spesso posti adesso tu collabori anche con Dario nella gestione del no 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 ah no credevo che facessi che facessi anche qualche modo da 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 tempo non hai tempo non hai tempo infatti mi chiedevo anche come poteva essere io già e comunque hai la tua pagina facebook dove comunque chi vuole informazioni chi vuole chiederti come sono le condizioni cosa occorre perché meglio che la gente ti chieda piuttosto che no perché dicevi di aver avuto persone che sono arrivate su con abbigliamento totalmente inadeguato al di là del fatto che se uno passa per il ghiacciare ci vogliono i ramponi e anche chi viene su non deve pensare che sia estate fa caldo e quando sali sopra i 3000 metri cioè devi portarti dietro la roba invernale anche perché ti cambia il tempo cioè ci metta a nevicare cioè anche se parti che sono 25 gradi ti ritrovi a 0 gradi in un attimo bisogna portarsi guanti berretti e tutte le cose come se fosse pieno inverno e guardare molto le previsioni del tempo perché non si può trovarsi sotto un temporale su per di là perché là non è cioè il temporale c'erai là i fulmini ti vengono giù per la testa ho visto persone arrivare su sotto al temporale che piangevano e beh ma immagino deve essere da paura veramente e poi posso dire un'altra cosa ho una pagina Instagram anche Carlo Budel e là sto usando molto più Instagram io che Facebook perché sei giovane perché sono i giovani che usano più Instagram no ma mi piace molto Instagram beh ma è bello Instagram è molto fotografia e quindi eh sì ma poi c'è tutta la mia pagina uno se vuole guardare si guarda tutte le foto anche nell'estate scorsa e beh sì visto che c'è tutto questo patrimonio incredibile di fotografie è molto più comodo no ma anche tutti i video c'è uno che guarda la mia pagina Instagram che va a luglio agosto dell'anno scorso e dice ma qua come può essere estate ci sono buffere di neve è bello è una cosa che si diceva prima per chi venisse su tu li mostrerai anche tanti non ci credono che dalla cima della marmolada si vede il mare eh d'estate d'estate è meno bisogna proprio beccare le giornate quelle belle ma si vede proprio bene il mare quando ci sono le giornate limpide lo vedi proprio luccicare lo vedi benissimo si magari si fa fatica a riconoscere che quella fascia dorata no sembra incredibile da pensare ma lo vedi proprio talmente bene che ogni tanto con le luci vedi proprio la fascia rosa è stupendo bellissimo ecco sono emozioni che ci sai regalare non vediamo l'ora di vedere quelle nuove di quest'anno mi raccomando sta attento fa bene tutto quello che va fatto ma quindi tu allora scusa perché mi viene un'altra curiosità durante l'estate gli approvvigionamenti di cibo quelle robe là ma ti viene sull'elicottero o te li porti su tu no all'inizio stagione all'inizio stagione è chiaro l'elicottero 10 viaggi in elicottero 10 viaggi 4 perché più di 6 quintali non può portare su l'elicottero è troppo alto lassù rischia 6 quintali al massimo anche tutte le legne per riscaldarsi è ben giocato è logico come fai 10 viaggi più o meno facciamo l'inizio stagione e dopo io mi affido anche a quelli che vengono su a trovarmi se mi serve qualcosa passano giù il rifugio a Castiglioni scorso anno avevo finito lievito e ho scritto su facebook se qualcuno viene su domani potete portarmi su del lievito per dolci beh la sera dopo mi sono trovato 100 bustine di lievito avevo lievito per non so quanti mesi vedi dopo dicono che questi sono mezzi virtuali sono utili sono utili gente che mi portava sulle mele che le avevo finite è tutto un aiutarsi questo è anche il bello di quel rifugio è proprio un rifugio tipo quelli di una volta sai poi un'altra cosa perché poi i discorsi si verrebbe da parlare per ore con te la tua esperienza a me trasmette l'idea di un amore per la montagna senza confini assolutamente penso che a te proprio non ti interessi niente nel discorso confini in marmolada qua siamo nelle Dolomiti di Belluno no no non vedo proprio i confini non esistono quella lotta sulla marmolada andrà avanti ancora a 100 anni non risolveranno niente secondo me tu vai su nel tuo rifugio ti guardi io sono sulle Dolomiti e io non mi interessa offri la tua fetta di strudel e basta così e basta per me la montagna secondo me è pace io già oggi girare in macchina venire qua a Belluno diventare matto per trovare un parcheggio appena scendo dalla macchina c'era già la vigile che guardava per farmi fare la multa e a me già mi dà fastidio questa roba qua perché non la mettono tutti in parcheggio a pagamento i vigili apposta da guardare per dare multe ma è una società che non mi piace questa secondo me è derubare le persone meglio meglio starsene lassù tranquilli senza nessuno che vada per darti la multa subito a tirar soldi e lassù si sta meglio si sta in pazze sto bene là senza vigili senza vigili va bene allora non ce ne vogliono i vigili ringraziamo tutti per l'attenzione ringraziamo Carlo per essere passato qua buona stagione ti seguiremo sui social anche Instagram comunque Carlo Budel sei su Facebook Carlo Budel e anche su Instagram la pagina è tutta montagna seguitemi lo seguiamo ti salutiamo ti chiederemo consigli ti chiederemo fotografie ti chiederemo un pensiero come tantissimi fanno mi raccomando scrivi perché la gente prima di andare a letto la fotografia col tramonto dalla marmolada lo vuole c'erano delle domeniche la scorsa estate che non postavo niente perché ero pieno di lavoro persone che mi scrivevano su Messenger se stavo bene perché non avevo messo su niente eh no ormai ti aspettano è bello così pubblicherò sicuramente la mia vita anche la tanta gente Carlo che non ci arriverà mai lassù perché ne hai tanti che ti seguono che lo dicono insomma o per età o perché sta lontano o per condizioni fisiche non sono in grado però gli regali qualcosa più piacere ho tanti che mi scrivevano grazie perché io in marmolada ci sono salito tantissime volte ma adesso non ho più la capacità di salire e vedere com'è ancora adesso e tutto qua cioè questi qua mi riempivano di gioia perché cioè vedevano quello che loro avevano visto in ogni caso ed è bello questo mi dà molta soddisfazione bellissimo va bene allora grazie Carlo grazie a tutti ciao buona giornata ciao 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 ciao